Salve ragazzi ragazzi siamo rimasti sono delta 28 siamo qui su Tekken 8 e abbiamo finito praticamente quasi il palese di tutti i due i personaggi episodi personaggi e ci mancò solo due Shaheen Shaheen, Shaheen, Shaheen cerco di dirlo bene sennò la gente si arrabbia e King però prima facciamo Shaheen ok ok perfetto Shaheen, Shaheen, ha definito che lui anche si unirà nel torneo e si è andato all'arena con la sorda di suo vecchio amico il G-Corporation, il G-Corporation, il G-Corporation, il G-Corporation, il G-Corporation, il G-Corporation ok non ho capito quello che hai detto però va bene ho capito cosa volevi dire perché c'era il sottotitolo ma non ho capito quello che hai detto Leochied машett, il G-Corporation, il Signorier paradisci il G-Corporation, il G-Corporation… meno mai che sono tutti valgenti Leo4 salati comuni ishes highlight Brian Vediamo come combatte lui Non costo bene Infatti Ok Vediamo un po' Molto standard Mh Cioè Normale Normale Niente di eccezionale Anche mi piace È simpatico Ok Bella Vediamo sapendo così che succede No Credo che non l'ho sprecata Penso Vabbè Ah no Vabbè Vabbè Scomparso L'amico Quindi non è che ha perso un amico L'ha perso in senso che è morto Ehi Round 1 Figurati quanto lui Ci sa che è questo un po' Sfattore finale Immaginate che è King E senza volerlo Vabbè non credo Non credo Vabbè Vabbè Imparare il combo Questo vai per tutti i personaggi È più che normale Però Tanta roba Bella Quindi è un finale di una combo Quella Ahia Pagli Bene Figurati Abbiamo arrivato Una bestione Dai Round 1 Fight Ah se è difeso Steso malissimo Ok Tu gioca comunque su Cazzotte e poi Cioè Ripeto Non ha un vero e proprio stile di combattimento È molto normale Cioè Non lo vedo una Particolarità Non ha una particolarità rispetto agli altri Lì lì Non me l'aspettavo Santo c'è Oddio Devo combattere contro una bo Questo praticamente sarebbe la traduzione letterale Sì Però Dobbiamo vedere Ovviamente i mutantine di Lily Ecco che certi costumi non mi piacciono Vabbè ma Vabbè Ci sono i tizi interessati Che gli piace Vabbè Uh Bella E' visto che ho fatto Bella Ok Ok Round 2 Fight Bella 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 Belli calcione Lui è bravo con i calci E giocano con il calcio con la punta Ma con il tacco che fa più male Si sta Nina affronta Nina Oddio Inaspettato Vabbè perché è un assassino Anche lei giustamente Giustamente sono due assassini Si sta come concetto Madonna fatto male Bella ti ho fregato Uh anche tu Fai le combo giustamente Madonna che colpo brutto Ho fatto male Vabbè Uno Ok Bello Volevo colpirla Vabbè niente Volevo fare una cosa Vabbè è andata male Ah ma hanno fatto lo special Le bea Ahia Ancora gli ho fatto lo special Lui non so che la faccio tra poco Ho perso il cappello E lei ha perso il giocatore Ahia Alla sto punto Mi faccio colpire un po' Per avere lo special Dai Dai voglio lo special suo Voglio vedere che succede E la madonna Bella Che cari Mi stai slittando Hai slittato su un corpo di una persona Ci rendiamo conto di cosa ho visto Si Gli Scri Scri Wow, wow! Come and get it! Real witness history in the making. A new era has begun! Wait! You're not gonna die! What? Oh! 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 Oh, oh, oh! 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 Sono amici? Lui è un buono Ok No perché non me lo ricordo ragazzi Certi personaggi non me ricordo Tekken 7 ora non ci gioca da una vita Ok, tocca a King King Rock King, il campionato pro-wrestling Rannan Orphanage che rischia i bambini Da tutto il mondo Oh Però, due a la guerra tra la G-Corporation E la Mishima Zaibatsu L'Orphanage era già bene Per la capacità Il campionato wrestler Rannanano il torneo di Iron Fist E veniva con un plan In order to find collaborators For his project King put his name forward for the tournament Ci sta Eh ma lui E anche lui è proprio un buono Poi ci sta quell'altro che mi scordo con l'ascuro Che è il suo antagonista Il suo cattivo rival E' un che da dire ragazzi Che King è palesemente un riferimento a L'uomo tigre Tiger Man Tigre Tiger Man Ciò che è una Qui è un leopardo Un ghebardo Credo un leopardo No Ghebardo Un ghebardo Sì Solo che non ho mai capito Quello è una maschera Lui ha Ha l'esempio una maschera Ma non ho mai capito perché Ok Lui è più difficile Perché Ha una dinamica di combo particolare Aia Che ho Bella Ma lo so King Ah bellissima Che ho Round 2 Fight Bella Eh ma io dico che il wrestling è finto Dillo a me Che sei co- Bellissimo come il tuo cale spalle che è partito Boom Che è bello Che ho di questo mezzo Figo Si è portato sempre Bellissimo che tiene il corso Ok Fang Fang Vuoi menare uno come lui? Buona fortuna Fang Buona fortuna Ripeto Appunto Ma lui è molto forte Ma se giochi bene con le combo E sotto missioni Eccolo qua E' forte E' forte Lui fa un po' come Tina di Dead or Alive ragazzi Se si fanno le combo nel frattempo Fai le azioni Poi li fai all'improvviso Durante un calcio O una presa Ecco Al volo Gli fai questa cosa E C'è la proprio Cioè è puramente una cosa stanza Bombele K.O Mamma mia raga Cattiveria Tu vieni Figo Mi è piaciuto Bella Poole Eh vabbè Poole la vedo Eh questa è tosta con Poole Oh su Ok Pensavo a una interazione Ma c'è un'interazione con gli altri personaggi Si Madonna Si sa se ci farà un'azione Dove è praticamente Bella Vabbè Madonna Poverino Andata Barone Che Oh Motherfucker Bellissimo No Gli andava addosso Gli faceva Che O Gli faceva Sei finali Arena Round one Pazzo Questo Fight Però Devo dire Mi delude Un po Oh L'intelligenza artificiale C'è La difficoltà L'intelligenza artificiale Volevo vedere Una cosa Se facessi così Aspetta Vabbè Vabbè me l'ho fatto male Voglio vedere Se io gli facessi una nostra così Poi lo faccio di nuovo Che succede? Che cosa succede? No Chiedo Vediamo Ahia Fatto male Aspetta Uno Uno No No Non lo fa Pensavo che facesse qualcosa Bella Bellissima Dotto Poi finirla così Troppo bella Buttati Ha una bella muscolatura Finale Contro chi Abbiamo a che fare? Sono curioso Steve Contro Steve Figo Che figo Siete voi Tra di voi Bella Ok Vabbè ma uno fa boxe L'altro fa racing Sì Ma non c'è competizione Anzi Non vedo l'ora Non vedo l'ora Pam Di fare Il finale Mamma mia È troppo figo Fa un danno della madonna Infatti fa un danno della madonna Infatti fa un danno della madonna BOMB 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 E non lo può fare Però questo sì Bella Fallo No Dai So perché ero fermo Mi era parato No Io ci volevo Colpisci 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 Che così tanto ha sprecato Dai Ok Dai che faccio lo special Dai che faccio lo special Dai che lo faccio special Dai Eccolo qua Maronne Che Maronne Ucciso male Steve Puoi anche essere Il figlio di Nina Ma non sei a livello Niente Bello Sono contento Vediamo il finale Di Tigre Eh di King Scush Steve Fox In che senso Ancora? Che poi Quella è la sua skin originale Sì è la sua skin originale Oltretutto Ma questo spiegherebbe Perché Bella Ecco perché lui ha la muscolatura Che vorrebbe anche Steve Ecco che Steve Sì è la sua mente Che è la sua skin Ha la sua skin Che è la sua skin Che è la sua skin Che è la sua skin Che apreste E' la sua skin E' la sua skin Che si Qua è la sua skin L'interferlo ragazzi abbiamo fatto tutti sono stracontento ora ora uno mi dirà e adesso e ora dovremo fare il questo arcade per finire per fare questo e poi dobbiamo fare battaglia archite di cos'è avrò un battaglio con fantasci 8 battaglie in totale l'ho 8 in che senso battaglia arcade a queste l'arcade a eccolo vabbè veramente questo vivi un protagonista che allora a questo punto faremo questo e poi faremo questo questa modalità di venti dopo aver raggiunto ulteriori progressi nella questa anche alla fare una prossima volta il quest arcade raga qui da 38 passo e chiudo bella